Radio 105, 20 secondi e saranno le 21 Hello, hello, hello amici, buonasera Buonasera e benvenuti a 105 Night Express e finalmente fatemelo urlare qui da Milano con il mio socio Alessandro Tentone Sì, sì, e ogni tanto succede questa cosa meravigliosa che siamo nello stesso studio, quindi bentornata a casa Rebecca Grazie Ale, sono molto contenta, veramente questa sera sarà da speciale Sì, poi succede questa cosa che quando torni tu, essendo tu una persona, al di là di una ragazza molto bella Sei una persona molto bella, tutti sono estremamente contenti È una festa, è una festa e quindi ci siamo visti già qualche ora fa insomma per altre cose E quindi all'interno del palazzo di Radio 105 c'è proprio una felicità che non tutti i giorni c'è Guarda ti posso dire che mi riempie il cuore di gioia perché quando torno effettivamente qui è tornare in famiglia, è tornare a casa E il calore di tutti, davvero di tutti, dai nostri colleghi, da te, a chi lavora qui, alle guardie È davvero una cosa che mi riempie proprio di felicità E quindi ragazzi, siamo presi bene, siamo presi bene sempre Ma stasera siamo presi meglio perché Rebecca è con noi e quindi siamo tutti insieme All Together Per iniziare in questo martedì E quindi E quindi